Via Osento a Pescara, la battaglia continua a Domenico Pettinari non demorde. Qui siamo stati 13 mesi fa, problemi però irrisolti, abitazioni deturpate, la manutenzione delle case ATER di proprietà della regione non viene fatta da tantissimi anni. Non solo, ci sono diversamente abili costretti a vivere in Tuguri con infiltrazioni di acqua. Pettinari, a distanza di un anno, che cosa è cambiato? Purtroppo non è cambiato nulla. Qui stiamo in Via Osento, dove ci sono circa 60 appartamenti di edilizia residenziale pubblica di proprietà della regione Abruzzo, qui dell'ATER e quindi della regione Abruzzo. Il problema è serissimo. Io ritengo che questo è tra gli alloggi più fatiscenti della provincia di Pescara. In assoluto basta guardarli. Muffa diffusa, infiltrazioni d'acqua, calcinacci che si staccano, piccioni che vanno dappertutto creando situazioni anche estreme, escrementi e quant'altro. Degrado assoluto. Degrado assoluto, ma non solo. All'interno degli appartamenti ci sono infiltrazioni d'acqua dappertutto, ratti che vanno girando. I fondi del PNRR? Qui c'erano i fondi del 110 bonus. Purtroppo queste abitazioni sono state poste al 64esimo posto in graduatoria e non beneficeranno di quei fondi. Si devono accontentare solo di qualche residuo. Questo è pazzesco e allucinante. Allora noi oggi chiediamo con forza al Presidente di Regione Abruzzo, che è proprietaria della regione di queste case, dato che si sta discutendo l'assestamento di bilanci in Regione Abruzzo e quindi si sta liberando un tesoretto di diversi milioni di euro, di fare subito parte di quei soldi, destinarli alla ristrutturazione strutturale dell'abitazione di Viosento. Poi mi lasci dire, qui siamo a pochi passi dal ferro di cavallo. Ferro di cavallo abbattuto, solo spot, slogan, speso un sacco di soldi, milioni e milioni di euro per non risolvere i problemi. Ecco, quei soldi si sarebbero dovuti utilizzare per rifare le case popolari, non per abbattere il ferro di cavallo, che non serve a nulla. Questo è il più grande, mi lasci dire, fallimento prima delle amministrazioni di centro-sinistra a guida PD e poi dell'attuale amministrazione di centro-destra, che si sono sempre voltate dall'altra parte, non si sono mai occupati dei veri problemi delle periferie, quindi le periferie completamente dimenticate. Lei signora assiste sua madre, che è disabile e abita qui in via Osento, situazione insostenibile? Situazione insostenibile, disastrosa, quando vengono i medici anche per una visita, dicono la signora non può vivere in questo appartamento così pieno di umidità, con i muri in queste condizioni. Ricordo al Presidente della Regione che il 17 luglio 23, a Torre del Greco, crollava una palazzina delle case popolari. Che vogliamo fare? Speriamo non succeda mai, che non succedano mai eventi gravi, ma, se nel puro caso, speriamo mai, nessuno potrà dire io non sapevo niente.